benvenuti da scozia prego preparare passaporto allora siamo tornati su un video per questo allora allora prima di tutto caffè dove è il caffè è caldo è caldo che schifo ma cos'è è caldo e cioccherato non è caffè cos'è cos'è coca cola calda no come no allora qua c'è sempre ricercato compagno compagno mister g qua c'è ancora ricercato devo stare attenti se lo vediamo ok andiamo al lavù andiamo al lavù come sempre poveracci in fila come mi spera suona la campana aiua la tua risulta dai scusi quella la vai vai dai dai cosa c'è cosa c'è ma che vuole questo ancora che cacchio vuoi ma foda non c'è sua musica ma se è lui allora allora è maschio san h ah ah no sbagliato il codice sbagliato ciccio si eh per favore polizia presto prendetelo ma si ancora parla ma che a parte l'ho portatelo via eeeh pensiamo bene la giornata nanti e al prossimo signora allora documento passaporto eeeh allora la femmina si chiama roberts heischweitz roberts heischweitz roberts heischweitz si codice è giusto eeeh 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 il libro il libro il libro il libro non è tanto costumo c'è un testo di cavolo buongiorno signore 75 kg 75 kg dove la bilancia ah è qua però qua non abbiamo 1 kg allora eeeh 75 kg è pesante è normale per un uomo allora e quanti è pesante è pesante è pesante 85 90 100 kg quindi è pesante allora 4 r c prontò si che c'è ma ho un giudissimo prontò c'è il telefono pronta? no vabbè allora 3 cloros vicio strad vicio strad vicio strad penso che vada bene dai vada 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 yes 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 avanti prossimo buongiorno signora papapure pliiis papure pliiis papure pliiis TURK LENA TURK LENA SEI BIU SETTE LENGNEGNE No puoi entrare Perchè? Non puoi entrare Tutto non puoi entrare Vada signora Porca citrolla Ma data era sbagliata Ma cosa fai? Che la tengo a fare io qua? Cosa la tengo a fare? Cosa la tengo a fare qua? La scadenza Qua 18 dicembre Questa è sbagliata 1F1 Sophie Zammet E allora? E' dello cicletone Controlliamo se dello cicletone Controlliamo se dello cicletone Allora Union Cicletone Cicletone Esiste Ma scusami Mi si fa con questo masticcio E' appunto Compagno masticcio E' appunto Ah proprio si è portato il pane con la salsiccia Si E' dove? E' mangiato il mio gatto Allora Io ora gli frego Stipendio Gli frego la metà Va bene? Sì Oggi e ieri ho mangiato la mia famiglia Ho comprato medicinali Ho comprato solo medicinali Senza mangiare Lei capisce quello che succede? Non prendiamo tempo? Dovevo lavorare Ma se non c'è il mio gatto E allora prende il suo gatto Lo portino a meci penso io Stasera gatto per cena No No mi dispiace Lei mi porti il gatto E stasera a cena A cena il gatto No Il mio tutto è bello No Lei mi devo portare il gatto Allora Dovevo fare io? Però non ci voglio mangiare le potele Le potele No facciamo le potele E' fare una bella ricetta E' troppo pelosa Che sembra? Che non lo spelo tutto Anzi Lo metto e lo ammollo E ci spiega tutto il pelo Aia Lo metto ammollo Lo facciamo Oh no E' questo mio A chi? Ah no La faccia non ci assomiglia Oh che faccio io? Lei non ci assomiglia la faccia E' niente Eh Proviamo Le potele digitali Vediamo qua Non ho pensato Ha rendito Cavolo Tutto sbagliato Ma dimmi che Non so Ma questo qua Adesso chiamiamo la polizia Ma io ho pensato Eh Polizia per favore Ma io ho pensato Ma per favore Per favore Cercate di fregare a me 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 Ma come potete Non ce la faranno mai 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 A fregare a me Allora il prossimo Il gatto deve portare a questa sede Questa sede c'è il gatto per cena C'è il gatto per cena Eh Ecco Voleva fregarmi Lei Lei voleva fregarmi Allora Luca Martin Allora Di Antegria Mh Tuttoliamo Antegria Mh 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 Che c'ha? Non c'è questo Sì Perché problemi di sesso Come no? Sì E poi ci facciamo una teatografia in caso Quando possiamo Allora Antegria Città di Hotel Bruce Va bene Ok Guarda bene signora Signora Che viene male Guarda 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 io lo sai? io lo sai? Aprel please Lady Antegria il documento ci vuole mi spiace signora non ci vuole il documento? eh? non ci vuole il documento scusa per... eh si non ci vuole il documento? si si il card si come faccio a farlo capire questa qua? aspetta ecco non correlazione la carta? non c'è correlazione e che cacchio cosa ci devo fare? meeting data aspetta il documento si 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 ci vuole il documento scusa? si 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 Gatti, mi dispiace Domani devo portare la salsiccia e il pane O il gatto, scelga lei Ciao ciao